Saranno destinati al comune di Caivano 15 milioni di euro, grazie ad un accordo di programma stipulato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Regione Campania e il Comune dell'Area Nord di Napoli. L'obiettivo è la riqualificazione produttiva del territorio e prevede interventi di riconversione per il comune commissariato e caratterizzato da un forte degrado socio-economico. Il sostegno arriva con la legge di bilancio 2024 che ha disposto l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Il patto durerà 36 mesi e prevede l'istituzione di un comitato tecnico composto da quattro membri, due del Ministero guidato da Adolfo Urso, uno della Regione ed uno del Comune. Questo organismo dovrà monitorare lo stato dei lavori con il supporto di Invitalia, l'ente che gestisce la misura. Successivamente sarà pubblicato un avviso pubblico con le specifiche per poter presentare le domande. I progetti di investimento dovranno avere un programma occupazionale finalizzato all'incremento o mantenimento del numero dei lavoratori.